Sono Federico Motti, i jolly del centrocampo. Il mio ruolo è quello di centrocampista, che posso variare sia da fare all'interno, mediano o anche giocare nella tre quarti. Il mio ruolo, soprattutto quello da interno, lo interpreto come un ruolo che devo recuperare molti palloni, aiutare la squadra in fase di impostazione, andare alla conclusione, tirare in porta e fare anche dei gol. Federico è un centrocampista molto dinamico, fisicamente può ricoprire più ruoli del centrocampo. Lo stiamo utilizzando in diverse zone del campo perché è un fisico un po' adattabile a tutte le situazioni e a tutte le posizioni del centrocampo. Al centrocampista, attualmente a Federico, chiedo di interpretare tutti i ruoli del nostro centrocampo, davanti alla difesa, all'interno del centrocampo, giocare tre quartiste, conoscere più ruoli è un bene per il calciatore. Federico è un compagno che aiuta molto, diciamo che nei momenti che sei un po' giù di tono o che comunque sei un po' stanco così, lui è quello che ti fa ridere, ti motiva e anche in campo ti chiama, ti aiuta, ti cerca sempre. E' un ragazzo che ha tanta corsa, anche buone qualità tecniche, ama tanto sfruttare la corsa perché fisicamente magari subisce un pochino, nonostante la sua altezza, quindi sfrutta tanto la corsa e la tecnica per arrivare alle sue conclusioni. E' abile, è abbastanza veloce, quindi anche per inserirsi nella metà campo offensiva è un giocatore che può essere interessante, quindi sicuramente ha tanto da migliorare magari a livello tecnico e a livello tattico, capire bene certe situazioni di gioco, però ecco, con la volontà che ha sicuramente sono difetti che migliorerà col tempo. Le cose che ci dicono i mister è quello di non mollare mai e di allenarsi sempre con costanza, che prima o poi i risultati arrivi. Ciao!